C'era anche la Pantera della Polizia di Stato, la prima volante, ovvero un Alfa Romeo 1900T del 1952, a sfilare 345 veicoli storici a marchio Alfa Romeo, che si sono ritrovati per l'undicesima edizione del raduno nazionale di collezionisti Alfa Gubbio. Verde il colore della Pantera, in quanto negli anni 60 e 70 fu utilizzata proprio tale cromia e apparve la scritta Polizia Squadra Volante sugli sportelli anteriori delle vetture e solo dal 1976 le auto diventarono azzurre con fasce bianche ai lati. La Pantera è stata il fiore all'occhiello della due giorni dedicata al fascino del celebre Biscione su quattro ruote, per un raduno organizzato dall'associazione Auto Motostoriche Gubbio Motori del presidente Alberto Pasquini e che ha coinvolto tantissimi appassionati provenienti da ogni parte dell'Umbria e da varie zone del centro Italia. Nel primo giorno la schiera di Alfisti ha fatto tappacagli per visitare l'imponente Torrione e il teatro, per poi tornare a Gubbio con la cucina tipica del ristorante La Cantina. Quindi il giorno dopo incipit con visita al Museo Arti e Mestieri, seguito dal vernissage motoristico nello spettacoloso scenario di Piazza Grande, con il saluto, prima dello start, dell'assessore a turismo e sport Gabriele Damiani. Quindi spazio all'abilità, con la delegazione che ha effettuato la crono del quarto trofeo Gubbio Stampa nel piazzale della Colacem di Ghigiano, proseguendo poi per un giro panoramico lungo la SS 198 e Gubbina, tra le località di Colpalombo, Casa Castalda, Val Fabrica e Piccione, prima di tornare a Gubbio, con il pranzo nell'inimitabile location del Parco Tele Cappuccini, a cui sono seguite le premiazioni. Una manifestazione svolta in completa sicurezza, grazie anche al supporto di ASI, la federazione principe per gli appassionati di auto storiche. Un piccolo tributo per una tradizione tutta italiana, capace di fondere stile, eleganza, prestazioni e tecnica d'avanguardia, regalando esempi memorabili di vetture entrate di diritto nella storia dell'automobile. Siamo qua a questo raduno nazionale Alfa Romeo organizzato da Gubbio Motori, un evento che è cresciuto negli anni da evento locale, territoriale ad evento nazionale. C'è una bellissima selezione di vetture Alfa Romeo, di questo marchio glorioso nazionale, uno dei marchi automobilistici più famosi al mondo. C'è una bellissima selezione, dicevo, di vetture dagli anni 50 ai primi anni 2000, sono comunque tutte vetture ultraventennali con certificato di identità, quindi sono auto conformi all'originale. Il nostro compito, il compito dei delegati è quello di verificare che le manifestazioni siano organizzate e realizzate secondo gli standard di qualità e i valori e i regolamenti dell'ASI. Qua abbiamo circa 45 vetture, c'è presente anche una splendida Giulia della Polizia di Stato, nella livrea originale e c'è un'ampia selezione di auto, coupé, cabriolet, berlina, tutte in ottime, in eccellenti condizioni.